E' stato ritrovato intorno alle 10 il corpo di Mohamed, il 14enne marocchino disperso nelle acque di Giuliano Valido dalla mattina del 24 giugno, avvistato da due velisti nelle vicinanze del lato sud del porto, a 100 metri dall'imboccatura. Il corpo era tra gli scogli nel canale rosso, un punto dove era stato cercato già più volte in queste ultime ore e dove le correnti lo hanno trascinato. Il cadavere, il giovanissimo marocchino, è stato recuperato dagli operatori dei corpi speciali OPS della Croce Rossa di Giulianova e della Guardia Costiera. Il corpo è stato segnalato ed è stato recuperato dalla nostra unità navale che era impiegata nelle attività di ricerca, quindi a sud del porto di Giulianova. Era un'area che rientrava in quelle interessate dalle attività di ricerca e soccorso. Immaginavamo che l'interazione delle correnti portassero alla lunga il corpo più a sud, verso sud. Il tutto rientra in uno schema più ampio che la letteratura del soccorso già ci raccontava. Tutta l'attività di soccorso è continuata anche tutta questa notte, così come ieri notte senza soluzione di continuità. Questa mattina c'erano già stati alcuni sorvoli, sarebbero continuati ad oltranza anche perché, ripeto, era doveroso nei confronti innanzitutto di una vita, in secondo luogo della vita di un ragazzo. Quindi c'è una doppia responsabilità morale oltre che giuridica. Il corpo del ragazzo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Teramo, dove sarà a disposizione del magistrato, il PM Andrea De Feis, che sta conducendo l'inchiesta sulla tragedia di Giulianova. Ci sono sicuramente degli atti che procedono parallelamente a quella che è stata l'attività di ricerca e soccorso coordinata dalla direzione marittima di Pescara. Sono atti chiaramente dovuti, anche perché è giusto ricostruire tutte le dinamiche nella maniera più completa. Sono stati sentiti tutte le persone che hanno avuto modo di apportare ogni elemento utile alla ricostruzione delle dinamiche. Adesso chiaramente non posso sbilanciarmi, però è oggettivo che quel giorno le condizioni del mare non fossero ottimali, è oggettivo che sotto costa c'erano onde formate. È oggettivo che il gonfiabile su cui si trovavano, comunque, insomma, chiaramente potevano tenere il mare come unità magari maggiore. Questa autossia? Su questo, proprio in questi momenti, avremo delle ulteriori disposizioni. Adesso chiaramente si sta concludendo la parte del soccorso, quindi la parte operativa. Questo viene tutto in un secondo momento, in maniera parallela ma successiva.